In questo nuovo capitolo analizziamo l'immediato dopoguerra in Italia e il successivo sviluppo dei governi prima di centro e poi di centro-sinistra. Il dopoguerra in Italia, da queste immagini potete già intuire qual era la condizione dell'Italia, il 20% del patrimonio nazionale era distrutto, erano morte 450.000 persone, le grandi città erano state devastate dai bombardamenti, l'industria era zerata un po' perché bombardata, un po' perché era stata tutta riconvertita all'industria bellica, le vie di comunicazione erano inesistenti perché quando c'erano i bombardamenti si bombardavano soprattutto vie, ponti, acquedotti e ferrovie, le scuole, le case, i campi e gli ospedali erano inintutizzabili perché per quanto fossero intelligenti e mirate ad obiettivi militari le bombe colpivano anche gli obiettivi civili. Era altissima la percentuale di disoccupati, un po' per la stagnazione dell'economia successiva alla guerra, un po' perché tornavano da vent'anni di guerra, soprattutto gli uomini, dopo aver fatto il soldato e non avevano più un lavoro. Migliaia erano le vedove e gli orfani di cui lo Stato si doveva occupare. Infine la povertà era dilagante e i pochi beni di consumo che esistevano avevano dei prezzi altissimi perché era salita l'inflazione, cioè il costo dei beni di consumo. Ma questo non è l'unico problema. Si creò, dopo la fine della guerra, una profonda frattura ideologica tra nord e sud. Già esisteva una frattura dopo l'unità d'Italia, la cosiddetta questione meridionale. Ma dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, questa divisione si era ancora più accresciuta. Il nord si era liberato dall'occupazione tedesca con la guerra di resistenza, che si ispirava a ideali repubblicani, democratici e socialisti. Il sud, liberato dall'esercito alleati, era rimasto fedele e legato alla monarchia. Dopo il 25 aprile, il giorno della liberazione, c'erano in Italia due anime diverse, comunisti e socialisti che volevano il rinnovamento sociale, cattolici e moderati, che temevano la rivoluzione ed erano per il mantenimento dell'ordine sociale. Il primo governo fu un governo di unità nazionale, presieduto da Ferruccio Parri, un partigiano del partito d'azione, per insomma tirare un po' le fila delle situazioni. Ma il vero e proprio governo esecutivo fu quello successivo, del democristiano, appartenente al partito cattolico della democrazia cristiana, Alcide De Gasperi, che era però sostenuto da tutti i partiti antifascisti. Nelle prime elezioni amministrative, quelle per rifare i consigli comunali, provinciali e regionali, del 1946, la democrazia cristiana trionfava a nord-est. I comunisti e socialisti a nord-ovest, al sud invece c'era indecisione tra monarchici, socialisti e cattolici. Insomma, l'Italia era divisa in diverse parti e tra diverse ideologie. Pensate che al referendum della Repubblica del 1948, vedete questi pallini rossi, dal Lazio in giù erano tutti a favore della monarchia, dall'Umbria in su tutti a favore della Repubblica. Vedete che in manifesti elettorali, quelli dei comunisti presentano dei bambini non accompagnati con la bandiera russa dietro le spalle. Quelli della democrazia cristiana, c'è una mamma che protegge i bambini facendoci scudo con il partito cattolico. Quindi, uno prevedeva il cambiamento, l'altro prevedeva la conservazione. Il 2 giugno del 1946, ecco perché il 2 giugno non si viene a scuola, si tiene il referendum tra Repubblica e Monarchia. Si elegge anche l'Assemblea Costituente, cioè il pool di esperti, il team di esperti che avrebbero dovuto scrivere la nuova Costituzione delle leggi repubblicana. Sono le prime elezioni a soffraggio universale, votano anche le donne. Lo scarto di voti che sancì la vittoria della Repubblica fu di soli 2 milioni. Alla pubblicazione dei risultati del re di Altrono Umberto II di Savoia va in esilio in Portogallo. Quindi l'Italia aveva scelto la Repubblica, ma adesso doveva scrivere le leggi della Repubblica. Ecco la Costituzione. Questi sono i risultati elettorali della Costituente. Vedete che nelle votazioni per l'Assemblea Costituente prevalgono Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Socialista, ottenendo ben 400 seggi, fra tutti e tre, su 555. La nuova Costituzione però si basa sull'idea comune della nuova forma repubblicana, sull'antifascismo e su stabilire delle regole certe per il futuro. È un compromesso tra liberali democratici, cattolici, repubblicani e istanze sociali dei comunisti e dei socialisti. L'accordo è totale sui diritti dell'uomo, sui diritti del cittadino e sui doveri nei confronti della società. La Costituzione è approvata il 22 dicembre del 1947 ed entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Ha 139 articoli. I primi 12 sanciscono i principi fondamentali, cioè i diritti e i doveri dei cittadini. I successivi, la seconda parte, contiene articoli sull'ordinamento della Repubblica e la divisione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, tra Parlamento, governo e magistratura, per evitare che i poteri finiscono nelle mani di un solo uomo. Per capire cos'è la Costituzione e dove nasce la Costituzione, prendiamo a prestito una frase di Pietro Calamandrei, uno dei padri costituenti. Quando gli si chiedeva, qui in una conferenza universitaria del 1955, dove fosse nata la Costituzione, egli rispondeva, se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle cacceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Cioè, a dire, la Costituzione nasce dall'antifascismo. Ma, una volta scelta la Repubblica, una volta scritto il libro delle leggi, bisognava eleggere un nuovo governo. Ecco che, qui c'è un capolavoro politico di Alcide De Gasperi, esponente della democrazia cristiana che si reca a Washington nel gennaio del 1947, parla davanti al congresso per convincere gli americani a distribuire degli aiuti economici anche all'Italia per la ricostruzione, promettendo di liberare l'Italia dal comunismo. L'Italia potrà quindi usufruire del piano Marshall per la ricostruzione, ma si inaspriscono i conflitti sociali, perché il governo dedica maggiore attenzione ai settimedi, quelli produttivi, agli industriali e meno alle masse dei lavoratori. Vedete la differenza tra questi manifesti elettorali. I comunisti e socialisti si uniscono nel fronte democratico popolare, scelgono Garibaldi come emblema, che era riconoscibile anche dagli analfabeti, perché un movimento di Garibaldi era in tutte le città d'Italia, e indicano la scelta del fronte popolare come possibilità di rinnovamento, di svolta, mentre la democrazia cristiana punta sulla paura del comunismo e sulla paura dell'invasione russa. Madre, salva i tuoi figli dal bolshevismo. Difendetemi, dice l'Italia facendosi scudo dell'emblema della democrazia cristiana, che viene colpito da una fascia e da un martello. Nelle elezioni del 48, quindi, si sfidano DC e fronte popolare, PC più PSI. La DC rappresenta i cattolici e la borghesia, ed è sostenuta dagli Stati Uniti. Il fronte popolare rappresenta le istanze dei lavoratori ed è sostenuta dall'URSS. Quindi, come vedete, anche in Italia si sentiva il clima da guerra fredda. Le sinistre sono contro capitalismo e imperialismo americano. La democrazia cristiana pensa che lo sviluppo economico non dovesse cambiare i ruoli all'interno della società. Tuttavia, la paura del comunismo ha la meglio, nonché la milità di Alcide De Gasperi, e la democrazia cristiana prende quasi il 50% dei voti. Quindi, cominciano nel 1948 dei governi centristi, perché la democrazia cristiana si collocava al centro del Parlamento, e che dureranno fino agli anni Sessanta. Il Presidente della Repubblica è l'editore Luigi Einaudi. Il 14 luglio del 1948, a seguito delle proteste dei partiti comunisti e socialisti per essere stati estromessi dalla vita politica, continui scioperi, continui sommosse popolari, viene commesso un attentato ai danni del segretario del Partito Comunista Parnido Togliatti. Viene quasi ucciso. Si rischia la guerra civile, ma è lo stesso Togliatti a placare gli animi, per evitare che le cose volgano al peggio. L'Italia, dopo aver sistemato i suoi affari interni, entra nella Nato nel 1949, piazza delle basi bestilistiche americane sul suo territorio nazionale, riceve il piano Marshall e si avvia la ricostruzione. Comincia la stagione delle riforme, la prima è la riforma grade del 1950, con cui si redistribuiscono le terre contadini, non a tutti però, viene fondata la Cassa del Mezzogiorno per mettere alla pari il Sud con il Nord, ma la Cassa del Mezzogiorno sarà un pozzo senza fondo a cui attingeranno malavitosi politici corrotti e via dicendo. E più che rilanciare il Sud, continua ad affossarlo. La condizione dei poveri, a un certo punto, dopo un'iniziale ripresa, peggiora, perché le cose non erano state fatte equamente tra poveri e borghesia. Per cui la DC comincia a perdere consensi, a perdere voti, a partire dalle elezioni del 1953 e i governi sono sempre più brevi e sempre più instabili. Nel 1955, tuttavia, c'è un altro trionfo politico di De Gasperi, e cioè l'Italia entra nelle Nazioni Unite, e comincia a ridurre il tasso di disoccupazione. Nel 1956, la democrazia cristiana è aiutata dalla rottura interna nel fronte popolare, e cioè dopo l'invasione dell'Ungheria, dei carammati sovietici, i comunisti appoggiano la politica estera dell'Unione Sovietica, i socialisti condannano questa invasione come un'invasione, come un soppruso, come una prepotenza dell'Unione Sovietica contro uno stato sovrano di Ungheria. E quindi si dividono i comunisti e i socialisti. Ne approfitta la democrazia cristiana, che si allea con i socialisti, e inaugura la nuova stagione politica, quella dei governi di centro-sinistra. Con questa slide si conclude la prima parte del capitolo. Arrivederci.